Dopo l'Escano lascia un altro pezzo da 90. Il franco tunisino Rafiat sbarca meritatamente in Serie A. Lo allenerà Roberto D'Aversa, pescarese doc che lo scorso anno ha avuto modo di apprezzarlo dal vivo, visto che era fermo dopo l'esonero Sampdoriano. Avrà spinto molto per averlo lì a Lecce, ma l'ultima parola spettava lo scafato di S. Pantaleo Corvino. Pochi giorni fa aveva mollato il fantasista, sorpreso dall'elevata valutazione fatta dal duo Sebastiani Dellicarri. Surrafiat spingeva molto il Venezia, ma alla fine si era prevalsa la volontà del calciatore che sognava di ritornare nella massima serie. La cifra, investita dai pugliesi, non supera il milione di euro, con l'aggiunta degli immancabili bonus garantito il 15% su una futura rivendita al sodalizio biancazzurro. Alla mezzala proposto un triennale con opzione per le successive due stagioni ed uno stipendio raddoppiato rispetto a quanto percepito in Lega Pro. Ora vanno reperiti rinforzi all'altezza. In attacco, seguiti Tommasini, Gabrielloni, Magrassi e Abiuso. A centrocampo e sulle fasce restano in piedi le opzioni che portano dritto a De Marco e Russini. Manca per ora l'intesa per Sannipoli.